Si vaccina ogni giorno, 7 giorni su 7, per molte ore al giorno, circa sono 600 i vaccini che vengono fatti quotidianamente e attualmente le liste sono tutte state occupate fino al 28 di febbraio. Da oggi a Monfalcone ci si vaccina nella tenso struttura allestita da Fincantieri all'ingresso di Largo Cosulic, non più nel centro anziani di Via Fontanotte. Mi avevo promesso che nel 2022 quel centro sarebbe tornato a disposizione degli anziani, così abbiamo fatto. Adesso è in atto la sanificazione e la sistemazione di tutto ciò che deve essere pulito e sistemato. L'accordo fra il Comune e la Fincantieri rientra in uno specifico ambito di collaborazione fra le due istituzioni. Stiamo lavorando molto perché venga sistematicamente applicata quella responsabilità sociale di impresa a cui noi teniamo moltissimo e che Fincantieri in questi cinque anni ha dimostrato di poter puntare, perché sono moltissime le iniziative che abbiamo chiesto e che sono state realizzate a partire dai quasi 2 milioni di investimento per la realizzazione della scuola materna di Via delle Mandrie. Da parte sua il Comune di Monfalcone è intervenuto assicurando una serie di interventi ulteriori. Il Comune ha messo a disposizione anche dei parcheggi perché ci fosse la possibilità sia per gli operatori sanitari che per i volontari che ricordo fanno operazioni importanti di pretriage agevolando tutta la cittadinanza che poi per i cittadini che vogliono andare a vaccinarsi affinché non abbiano delle difficoltà e dei dispendi anche di tempo non necessari. Grazie a tutti.